L'anguilla in quattro, poi andiamo a posizionarla sul nostro foglio di carta fatta, quindi prendiamo il foglio, facciamo un bel tangolino a un quadrato, due foglie d'alloro, mettiamo l'anguilla, un po' di sale, olio, chiudiamo, cottura a mezz'oretta a 180 gradi, facciamo la salsa con l'anguilla, facciamo una salsa da cartesana, quindi olio, abbondanti acciughe, e le facciamo squagliare. Ok, una volta sciolti andiamo a pressarli sopra il prezzemolo, prezzemolo, duratura a bicchiere, e le facciamo un po' di sale, 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 e le fac